Per sancire l'incompatibilità del Presidente D'Alfonso, consigliera Marcosi, voi vi rivolgete al Tribunale dell'Aquila. Sì, questo è l'ultimo atto dal momento che il buonsenso del Presidente D'Alfonso non c'è stato, il buonsenso dell'Aggiunta per le elezioni non c'è stata e la maggioranza del Presidente D'Alfonso all'interno dell'Aggiunta per le elezioni ha deciso di preferire la carriera politica del Presidente Senatore all'istituzione Consiglio Regionale, abbiamo deciso da cittadini di depositare un ricorso al Tribunale Ordinario dell'Aquila, un ricorso in materia elettorale che finalmente sancirà la decadenza del Presidente Senatore. Quando arriverà questa decisione, il giorno dopo, cosa vi aspettate che possa accadere? L'unica cosa che potrà accadere quando il Tribunale dell'Aquila dichiarerà decaduto il Presidente D'Alfonso da appunto la sua carica di Presidente e Consigliere Regionale, il Presidente del Consiglio di Pangrazzo non potrà che convocare il Consiglio Regionale, sciogliere il Consiglio Regionale, il Vicepresidente Lolli indire le elezioni entro tre mesi dallo scioglimento. E a chi dice che c'è comunque un Senato della Repubblica che di fatto non è operativo, lei cosa risponde? Rispondo che è per colpa di una scellerata legge elettorale che è stata votata dal Partito Democratico e dal centrodestra.